Io sono Davide Giulian, sono fisioterapista di Padova e sono attualmente presidente dell'AIRM, dell'Associazione Italiana Rehabilitazione della Mano. Questa di Schio è la prima giornata degli hands-on che succederanno nei prossimi mesi. A Schio succederà Milano, poi Grosseto e poi Genova. È l'iniziativa che AIRM promuove per far circolare le idee, far circolare la possibilità di esporre casi clinici o studi o ricerche che i colleghi che si interessano di riabilitazione della mano e vogliono proporre agli altri colleghi. Il valore aggiunto di questa iniziativa è che i tempi che ci concediamo sono tempi più morbidi rispetto a un congresso nazionale o piuttosto a un corso dove le tempistiche si succedono con molta velocità. Qui c'è il tempo di discutere, di parlare e di confrontarsi. In più c'è anche la presenza di un medico della Società Italiana di Chirurgia della Mano. Oggi ne abbiamo avuti addirittura due, il dottor Corain e il dottor Bizzotto che ringrazio personalmente e che arricchiscono ancora di più il dibattito e la condivisione delle idee con un punto di vista più specialistico e che ci aiuta anche a comprendere meglio l'atto chirurgico o il punto di vista medico. Colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto Ghilene Motterle a cui abbiamo chiesto di dedicarsi all'organizzazione concreta e logistica della giornata che ci ha ospitato qui a Schio nel suo studio e che ha contribuito a rendere bella e concreta questa giornata.